Posso chiederle, nel frattempo che arriva il mio collega, un po' di pane? Grazie, grazie. Bello caldo questo. Buone pane, è buonissimo sto pane. Un po' di alzapane, si è? Giusto una fettina, giusto una fettina per il pane, grazie. Oh, grazie, grazie. Sto agli appuntanti, si può avere? Ma il tuo amico arriva? Sì, arriva, arriva. Sì, perché? Il mio collega ha avuto un imprevisto, quindi ha avuto problema col dilatatore, non viene a pranzo. Quindi se posso... Vuoi ordinare? No, vado, vado. Perché senza di lui mi scoccio a mangiare da solo. Che bravo che sei, dai vai vai vai.